Ecco il fischio d'inizio, quindi si parte, primo pallone per i rossoneri, calcio di posizione già battuto dall'Udinese, recupera però palla il Milan con Gamara che propoggia di testa indietro ed esce Livieri in presa bassa, meno male, con Vassallo che in mezzo a due fa un gran lavoro e prova a servire Vido, sbaglia però il controllo Vido, riparte l'Udinese sulla destra, in due contro uno su Bordi riescono ad andare via, attenzione, il pallone è messo al centro, De Santis la respinta e corta il tiro e c'è la rete dell'Udinese. 1-0 per l'Udinese, non c'è arrivato Livieri, rivediamo, De Santis ha cercato di appoggiare fuori, Gamara è andato in scivolata ma non è riuscito ad anticipare Armenakas che al 24esimo porta l'Udinese in vantaggio 1-0, stavolta la meglio il difensore rossonero, poi Zucchetti va a terra, perde palla Zucchetti che poi commette fallo, attenzione perché Zucchetti è già ammonito. E arriva il secondo giallo, il Milan è in dieci, dopo mezz'ora di gioco, al 29esimo minuto, prova a saltare anche Gamara, non ci riesce perché esce De Santis in anticipo, allora riparte il Milan con Vido che ha spazio, Vido poi prova a cambiare gioco nella zona di Vassallo, il pallone è preciso, Vassallo, Vassallo al limite dell'aria, poi arriva la chiusura di Coppolaro. Continuiamo a provarci, il cross di Azzurmanovic, un po' basso e corto, resta lì crociata di col tiro. Torniamo indietro a De Santis che sbaglia il controllo, attenzione perché De Santis perde palla, Armenakas per Portagin, col tacco, Portagin si allunga il pallone e esce Livieri. Attento al portiere del Milan, Locatelli, in avanti per Vassallo, anticipato, poi Locatelli recupera la palla, il pallone poi resta lì, Gamara mette ordine, Azzurmanovic in verticale a cercare sempre Vassallo, in mezzo c'è Vido, si inserisce anche Locatelli, Vassallo va da solo calcio di sinistro. Tiro fuori misura, il pallone lunghissimo a cercare Geromin, le sue finte su Azzurmanovic, va via Geromin, il tiro di Geromin, che prende l'esterno della rete. Rivediamo l'occasione, Geromin che ha calciato senza trovare però lo specchio della porta, per nostra fortuna. 4 contro 3, 5 contro 3, pallone in verticale, c'è il numero 7 dell'Udinese che calcia in porta, c'è la parata di Livieri. Rientra la barriera, parte crociata, il tiro era bello, ha carezzato la traversa. Sbaglia lo stop De Santis, attenzione, ora l'Udinese che riparte, Matic, Matic a tu per tu con Livieri, Livieri pare, il pallone resta lì, poi c'è fallo su Gamara. Pressing alto da parte i giocatori di Udinese, attenzione perché siamo scoperti, Portagin va via Gamara, Portagin a tu per tu col portiere. Gol di Portagin, ed è 2 a 0, al 43esimo. Peccato, peccato perché l'Udinese aveva creato poco, se meritavamo qualcosa di più noi, loro sono stati più cinici. Poi i risultati arriveranno per forza di cose, quando c'è qualità, i risultati non mancano mai. Mentre arriva adesso il triplice fischio del signor Maggioni che decreta la fine della prima giornata di campionato tra Milano e Udinese che termina 2 a 0 per i friulani. Grazie. Grazie. Grazie.